Una manovra repentina con la sua auto nella zona di via Cicolella a Lecce per tentare di sfuggire al posto di blocco non è passata inosservata ai carabinieri che hanno inseguito e bloccato un 49enne, Giuseppe Tornese. I militari hanno iniziato a perquisire il mezzo e l'uomo senza però trovare nulla. È stato il prolungato silenzio nel corso delle operazioni ad insospettire ulteriormente i carabinieri della sezione radiomobile, tanto da pensare che nel tentativo di sfuggire al controllo Tornese avesse provato a nascondere qualcosa in bocca. E infatti l'uomo aveva 19 grammi di cocaina sistemati in una bustina. La successiva perquisizione estesa all'abitazione nel quartiere Leuca, lui in uso, ha consentito di recuperare anche una pistola salve modificata e funzionante e con tre proiettili calibro 22 inseriti nel tamburo, quindi pronta all'eventuale uso. Sull'armadio della camera da letto anche della mannita è sostanza utilizzata per il taglio della cocaina. Per lui, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, si sono aperte le porte del carcere.